Amici di YouTube, ben trovati da Marco Ligori in questo video. Parliamo di un drammatico fatto di cronaca dell'ultima ora, ma l'ora improvviso perde la vita mentre si trova in vacanza. Questo è l'infausto destino che ha colpito il giovane ragazzo di appena 41 anni. Il teatro di questo dramma è San Teodoro. In Sardegna una coppia di ragazzi di Massa Carrara, due fidanzati, si trovava in un bed and breakfast e mai avrebbero pensato che quel viaggio si sarebbe tramutato. In un tremendo dramma nella notte del 4 settembre, Davide Dati, questo è il nome del ragazzo, è stato ritrovato senza vita dalla sua fidanzata che ha comunque allertato i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare il ragazzo. I tentativi però si sono rivelati vani. Davide non si è più ripreso. Chi lo conosceva lo descrive come un ragazzo che amava i viaggi e lo sport. Davide apparentemente era in ottima salute. Molto probabilmente è stato colpito da infarto il secondo nato di Marco Liguri con tutto il dispiacere del mondo. Ricorda il giovane Davide Dati, 41enne di Massa Carrara, scomparso a seguito di un malore improvviso. Amici di YouTube, io vi ringrazio per l'attenzione. Lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video, seguitemi anche sui canali YouTube. Marco Liguri e Marco Liguri, psicologia e crescita personale. Ciao a tutti.